Sindaco, questa mattina sono usciti i risultati di un'indagine Governance Poll 2017 con una classifica dei governatori regionali e dei sindaci. Ecco, l'Abruzzo perde su tutti i campi e la sua posizione scende al 97esimo posto con una perdita del 3,5%. Come giudica questo risultato? Ma innanzitutto che io stamattina devo dire che avevo altro a cui pensare che leggere il sole 24 ore perché c'è un'emergenza neve. Ci sono 17 cavi dell'energia elettrica a terra con tante utenze senza luce da tutta la notte. Però comunque è un'indagine che viene fatta ogni anno dal sole 24 ore che mi vede più o meno sempre in quella posizione. Ma devo dire che potrei rispondere che gli ultimi saranno i primi, come disse qualcuno tanti tanti anni fa. Io credo che ha il valore che ognuno gli vuole dare, insomma. Quindi potrei dire che il fatto che perdo solo 3,5 punti è positivo, potrei prendere il mezzo bicchiere pieno e il mezzo bicchiere poco. Guardi, io sono davvero tranquillo e non è il sole 24 ore che mi fa cambiare il mio modo di lavorare, dalla mattina alla sera, di essere sindaco, di cercare di soddisfare le esigenze dei cittadini terramani durante l'emergenza neve, durante l'emergenza terremoto, nella quotidianità. E c'è questa indagine che ogni anno viene fatta, bisogna averne, leggerla nel giusto modo e prenderne le cose positive che anche questa indagine ha. Quindi il suo mandato lei preferisce rispondere agli elettori piuttosto che a un'indagine? Ma sicuramente io non rispondo a sole 24 ore, ci mancherebbe. Io rispondo ai cittadini terramani che mi hanno votato una prima volta e mi hanno votato una seconda volta. Sono oramai, diciamo, oltre i sette anni e mezzo da amministratore di questa città e ritengo di aver dato davvero tutto me stesso, davvero con grandi sacrifici, da un punto di vista personale, familiare. Quindi questo è quello che mi dà grande serenità. Io la sera quando vado a dormire mi giro un paio di volte e poi dormo perché ritengo che nell'arco della mia giornata ritengo di aver fatto il mio dovere da sindaco e da amministratore. Poi è chiaro che il giudizio, ognuno ha il proprio giudizio, il sole 24 ore è il suo, io è il mio.